Peggiorano le condizioni di uno dei due vigili del fuoco rimasti coinvolti nell'esplosione a Catania. Entrambi sono ricoverati nel reparto di rianimazione dell'ospedale Garibaldi. Si tratta di Giuseppe Cannavò, di 38 anni, che ha una grave lesione polmonare. Restano critiche, ma non è in pericolo di vita invece, le condizioni dell'altro pompiere, Marcello Tavormina, di 38 anni, che ha riportato un trauma cranico. Al momento stiamo vagliando tutte le ipotesi e tutti i capi di imputazione, dice il procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro. Potrebbe essere disastro colposo, ma è ancora presto, troppo presto per parlarne. Valuteremo il quadro generale della situazione in base agli elementi, non escludiamo alcune ipotesi. Dei primi sopralluoghi compiuti ieri sera e nella notte, l'esplosione sarebbe avvenuta dall'interno verso l'esterno e sarebbe stata molto, molto violenta. La procura però deve chiarire diversi punti di questa tragedia che ha sconvolto Catania, come ad esempio perché la persona che era dentro casa non abbia aperto nulla una volta sentito l'odore di gas, un malore forse, o anche un gesto volontario che ha portato alla morte di tre persone. C'è poi da chiarire se sia stata o meno utilizzata una motosega per aprire la porta. Anche quest'ultimo particolare non dà poco. Durante la notte i vicini di casa sono potuti tornare nelle loro abitazioni, a conclusione dei lavori e dei sopralluoghi dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza e bonificato la zona.